E' purtroppo un po' la guerra e un po' vicissitudini, tanti quartieri sono stati un po' trasformati, diciamo. Comunque Genova, anche quando sono accadute purtroppo delle cose negative, ha sempre saputo sollevarsi e quindi la nostra superba rimarrà sempre la superba. E poi guardate com'è colorata, la scuola di Maseo con le brave maestre e i bravi alunni hanno realizzato delle immagini bellissime, tutte sembrano curiandoli. Ecco, Genova dimostra di essere una città bella, allegra, solare, i pannistesi, le caratteristiche di Genova. Io non ho parole veramente per descrivere con quanta cura, con quanta amore, con quanta bellezza è stata illustrata Genova. ma hanno fatto dei lavori questi bambini, logicamente, con le maestre seguiti, ma hanno lavorato tanto proprio, ma veramente con compassione e direi anche con amore. E questa in fondo è una mostra che dimostra tanto, tanto amore per la nostra città.